Ciao a tutti e benvenuti nella terza stagione di Techcraft Ebbene sì, eccoci qua Finalmente ricomincia la mia serie d'autore Come si suol dire La serie che reggeva il mio canale E che continua a reggerla, spero Il pacchetto che ho scelto lo conoscete già Da Airwolf20, ma è la versione nuovissima Tutte le mod sono cambiate Non c'è quasi niente di uguale Al vecchio pacchetto che conoscete tutti Infatti in questo pacchetto ci sono Un sacco di mod che non conosco Tutte le mod che ci sono non le conosco Ne conosco alcune, tipo la Mindfactory Che però è arrivata una nuova versione Che non conosco, quindi probabilmente C'erano le novità di qualsiasi tipo E niente Iniziamo subito, creiamo subito un mondo Allora Come lo chiamiamo sto mondo? Allora Lo chiamiamo molto semplicemente Techcraft S3 Techcraft stagione tra i mammi e che emozione Siamo già alla terza stagione La prima stagione era andata a buon fine Avevo fatto praticamente tutto Avevo fatto circa 40 puntate se vi ricordate No, questo devo lasciarlo così La seconda stagione insomma Non avevo fatto molto Perché in realtà poi avevo dovuto Terminarla bruscamente Per colpa di alcuni problemi Che avevo avuto sia con la mappa Che con Minecraft stesso E poi vi ho spiegato che non avevo più Intenzione di registrarla Ma adesso mi è venuta una voglia pazzesca Di registrare di nuovo Quindi eccomi qua E niente Siamo alla terza stagione Spero che duri moltissimo Che sia Proiettata nel futuro Nel senso Che sia sempre Bella come la prima stagione Come Techcraft stagione 1 Che è stata Una delle serie più viste Nel mio canale Insieme a Hitman E a Splinter Cell E questo Mi emoziona Vabbè adesso andiamo avanti Allora Seed for new world Allora Come Che seed mettiamo Mettiamo Un seed Azdrubale Regna Si mi piace Bonus chest Ma si Dai che cavolo Ok Creiamo un nuovo mondo Adesso io fermo un attimo il video Perché tanto Sappiamo tutti che dura un sacco La creazione del mondo E ci vediamo frappè Ed eccoci qua Il mondo è stato generato Naturalmente con la sfiga Che posso avere È stato generato Un'isola Un'isola deserta Quindi non lo so Dovrò trovare il modo Per tornare a riva Va bene Però inizia qui la nostra avventura Con Techcraft stagione 3 Allora Ho visto già che la cesta di cortesia Non mi ricordo come si chiama È qua Apriamola Vediamo un po' cosa c'è Allora C'ho un piccone Potrebbe essere interessante Degli stick Degli Wadding boots Che non conosco Dei flippers Dei bla 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 Vediamo un po' cosa sono Allora Questi cosa sono Biomes o plenty Flippers Vediamo quanto mi mettono di What the fuck Non proteggono un cacchio Invece Questi What the fuck Va bene Li indossiamo No però questi sono più figli Parliamo Aspetta Non me lo dice quanto proteggono Non me lo dice quanto proteggono Vabbè Però non me ne frega niente Perché Iniziata l'avventura Allora Direi come prima cosa Di Di creare una barca Per forza Perché se no Non saprei proprio come Come andare Allora Fatemi Pensare Così Allora Legno C Si ricomincia Che bello Legno C Non mi ricordo come si fa la barca Wow Sarà così Così Poi L'altro pezzo di legno Oh yes Allora Siete pronti ad andare per terre sconosciute Va bene Io inizio a navigare Perché tanto si deve generare il mondo Non ha senso farvi vedere La generazione laggosa del mio mondo E ci vediamo appena trovo terra Afrape Allora Non ho trovato terra ancora Ci ho trovato queste isolette Ci sono delle canne da zucchero Quindi me le pappo Ehm Sinceramente Ho perso un po' le speranze Perché ho navigato per molto tempo E non si crea terra Non vorrei che fosse qualche Bug Sconosciuto What the fuck is this Cosa sono quelle robe Ah sono quelle cose degli squid Si chiamano tipo squid qualcosa Ne ho preso uno Da semi tipo E un po' Ehm Le Sì da semi Mettiamo a posto questo Ehm Non lo so a questo punto cosa fare sinceramente Perché come vedete sta Vabbè a parte che sta laggando Perché sta Creando il mondo Ma non mi crea terra Cioè mi crea isolette di merda Però Di merda Mi rifiuta Oh cazzo no non distruggeti Ok Però non mi crea terra La terra 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 Lo trovate con voi che bello Ma che bello Ce l'abbiamo fatta Siamo in una bellissima baia Ehm Credo proprio che qua ci sarà casa nostra Però non vorrei fare Cioè non voglio fare sempre la stessa casa Fata a cacchio di cane Come faccio io di solito Anzi no L'ultima non era proprio Fata a cacchio di cane Però Non era il massimo Dove è finita la mia barca? Io voglio la mia barca Ehi Ehi Allora Questa è terra Io vorrei fare una casa un po' speciale Devo ancora decidere Visto che ho appena Trovato terra Non so manco come è fatta Quo Torca puttana Ok abbiamo già una caverna Ora devo soltanto capire Come si mettono i waypoints Ehm Apriamo con i tasti C No B B Cazzo che figo Ehm Caverna Mamma mia Guarda che bello Wow Wow È bellissimo Ma per caso si può trasportare Ci si No Direi proprio di no Non si apre anche il menu Allora Iniziamo a prendere Ehm Io vorrei Ecco Poi ho il polso sblogato probabilmente Oh perfetto Allora iniziamo a prendere il legno E questi fiori strani Mystical red flower Ok Allora inizia l'avventura Come si inizia In tutti i santissimi Ehm Gameplay di minecraft Cioè prendendo legna In realtà noi abbiamo iniziato un po' In modo diverso Perché naturalmente La mia fortuna mi perseguita E sono spawnato in un'isola di merda Un'isola minuscola di sabbia In mezzo al mare Insomma In mezzo all'oceano Perciò non è che abbia avuto troppa fortuna Però dettagli Ma quanto cacchio è alto questo albero Ah Oh è finito Però non mi ha dato un pezzo di legno Bastardo Qua sta Generando con molta calma il mondo Ehm Vorrei che tipo Tu generassi il mondo sai Mh Non so Era F3 più A Oh fuck Non genera il mondo Ma Secondo me c'è qualche bug Perché non è normale Cioè ci ha messo un sacco A generare un pezzettino di Cioè E' finita qui la Oh cazzo E' finita qui la terra Oddio A sto punto andrei anche un po' in caverna Sapete com'è la storia Ehm Magari mi faccio Una Un Allora C Mi faccio una piccola axia Che così Oh cazzo Sta arrivando la notte Sta arrivando la notte Mi faccio un'ascia Così mi prendo un po' di legno E poi vediamo che fare Allora vediamo un po' Innanzitutto Cioè in realtà lo sto facendo Ok no Pensavo ci fosse la tricapitator Ero molto molto contento Perché ero sicuro che ci fosse Mi dispiace Per adesso ho deciso di non aggiungere nessuna mod Poi magari più avanti Se mi verrà la voglia di aggiungere Lo farò Oh fuck Perché quel creeper blu è verde Se un creeper blu è verde Conclusion che? Che fai? Questa vacca esplodi Oh ma non dimmi Mystical Io li sto prendendo tutti Poi non lo so Cosa me ne farò Però vabbè E niente È già finita qui la nostra La nostra terra Quindi non credo che ci sarà casa nostra Anche se la baia mi piaceva Devo dire la verità Però vabbè Ci accontentiamo di poco Noi quindi No non è vero Sto andando a cercare altra terra A meno che non si stia ancora generando qua dietro Perciò non la vedo ancora Il che potrebbe essere più che fattibile Quindi superiamo questa colline Una finestra fantastica Oh grazie un pezzo di legno Naturalmente questa mappa L'austero in un server locale Anche se a voi non interessa Ve lo sto dicendo perché O voglia di dirvelo L'austero in un server locale Quindi che sta a casa mia Quindi privato In modo tale che Posso lasciarlo acceso Per che ne so Completare qualcosa che Che mi serve Per il giorno dopo Che ne so Trova del genere Che fiori Comunque la terra c'è Avete notato Eh si Cacchio si Si è generata C'è un villagero Che cosa sei tu Ho paura No è una strega Porca puttana è una strega Di già Di già Ci sono questi Mamma mia Che figata Ti danno cibo E sono grazie Porca puttana L'ho schivata Per poco No 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 Cazzo Perché devo sempre Avere un gioco horror Al posto di quello cazzo Mi ammazza Mi ammazza Mi ammazza No l'ho uccisa Non mi dire che c'è Quello che penso Oh capo Sono morto Si C'è quello che ti trasforma In quello che uccidi Tipo Se uccido questo Fantastico Fantastico Sono contento Almeno Almeno Perché il polgo Me lo da Allora Mi prendo tutti i fiori Mi prendo anche questi Assolutamente si Perché Mi danno cibo gratis Guardate Olè, crecono abbastanza volatilmente i frutti di quest'albero, quindi vabbè, ho bisogno di cibo, perciò c'è poco da dire, insomma. Credo proprio che, cioè in realtà sono deciso se fare esplorazione o caverna, ma io direi che per la prima puntata è meglio fare un po' di esplorazione, poi magari caverna nella prossima puntata. Eh, anche se in realtà è quasi finito il tempo, perché purtroppo per oggi ho poco tempo da dedicare, nel senso che posso dedicare circa, eh, ancora due minuti, perché poi sono nella merda, cacchio sono nella merda, sono nella merda. Un tripart. Oh, ma non è che ricordi. Dai, mori. Mamma mia, non è to... No, 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 non mi devi uccidere. Il piccolo, il piccolo, il piccolo. No, no, no. Ok, ok, calmo, calmo. È appena iniziata. Che cazzo? Ah, sto moreno dalla fame. No, la fame, no. Un pollo se non mi lascia. Un pollo se non mi member. Grazie per il fiume, ma non mi interessa! Non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa dovevo prendere il pollo. Dovevo prendere il pollo, dovevo prendere il pollo, dovevo prendere il pollo, dovevo prendere il pollo? Il pollo! Devevo magare questo, devo magare questo. Ok, almeno ha ognatrono una... Una cosa, come al solito, il primo problema che si trova in Minecraft è il cibo. Eh, dovremmo accontentarci di poco per adesso. quasi quasi mi prende anche questi no perchè lo tolaccia mi stanno senti no non lo voglio non lo voglio testimoni di giovano no allora sì questo posto mi piace perfetto per farci casa no non è vero io direi non lo so io avevo intenzione di fare tipo una casa what the fuck no che cazzo sei porca puttana no 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 però come ci arrivo la quanti metri su 500 metri devo andarci così perchè non ho neanche legno ma porca puttana perchè non sto attento vabbè tanto ormai il tempo è finito vabbè io sono spiegare un totto se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete mi trovate sempre su twitter google plus sul mio sito spiegare un totto punto ml o su facebook digitando facebook.com slash spiegare un totto official io sono spiegare un totto ciao a tutti ci vediamo nel prossimo episodio di tecraft stagione 3 ciao 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 Grazie.